Ancora un colpo di scena nel processo d'appello per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese che precipitò da un balcone di un albergo di Palma di Mallorca all'alba del 3 agosto 2011. È stata infatti anticipata la data della prossima udienza al 10 febbraio 2020 invece che a settembre perché c'è il rischio che venga prescritto anche il reato di tentata violenza sessuale di gruppo prima di arrivare al pronunciamento definitivo della Cassazione. La presidente della sezione, Angela Nese, ha potuto anticiparla perché è stato assegnato un altro consigliere consentendo così di rimodulare il carico d'udienze, un dietrofront che arriva dopo che nei giorni scorsi era già stato dichiarato prescritto il reato di morte come conseguenza di altro reato, suscitando l'amarezza dei genitori della giovane. L'amarezza, voglio dire, ecco, otto anni passati, ecco, il fatto che qualcuno ha matato mia figlia e che, ecco, non ci sia punizione, ecco, naturalmente, ecco, è una cosa quasi ridicola se non fosse tragica. Nei confronti dei due imputati Aretini, Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, resta così unicamente l'accusa di tentata violenza sessuale di gruppo che però si prescriverà nel 2021. I due giovani di Castiglionfibocchi sono già stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione, tre per la tentata violenza sessuale di gruppo e tre per la morte come conseguenza di altro reato. Secondo la prima sentenza, Martina volò giù per sfuggire ad un tentativo di stupro da parte dei due ragazzi cadendo dal balcone dell'hotel. I due giovani hanno sempre respinto tutte le accuse.